Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Peretola. Spostandoci sulla FIP lì in direzione Firenze rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci e incidente al km 4 tra La Strassigna e Scandicci. Incidente anche al km 70 e 100 tra Navacchio e Piso Nord-Est verso Pisa. Per la viabilità cittadina Firenze in via dei Giacomini per manutenzione interna di un fabbricato fino al 18 marzo strada interrotta da Piazza degli Antinori a Via delle Belle Donne. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!